Buongiorno, vediamo oggi cosa ci dice l'oroscopo. Arriete, oggi vi distrarrete molto, fate attenzione perché potreste perdere qualcosa di importante. Toro, si può essere felici anche sentendosi soli, la solitudine è un momento di crescita e di elevazione. Gemelli, molte cose ancora dovete imparare dalla vita, come esercitare la pazienza e la tolleranza. Cancro, giorno in cui sarai particolarmente sveglio, avrai anche una piccola fortuna. Leone, Marte e Saturno non giovano al vostro amore, sembra quasi che Marte voglia sgambettarvi. Vergine, la Luna ti consentirà di prendere una decisione importante, Mercurio oggi ti assisterà. Bilancia, una serie di novità potrebbero interessare la vostra giornata, non fatevi prendere dall'ansia. Scorpione, chi vi sta a cuore oggi vi dedicherà un'attenzione speciale e particolare. Sagittario, una notizia poco piacevole riguardo un conoscente oggi vi sorprenderà. Capricorno, assicuratevi che la persona che vi sta accanto abbia la comprensione meritata, non lasciatela sola. Acquario, guardati da una persona invidiosa, accentuata sensibilità e forte intuito. Pesci, Marte oggi vi renderà nervosi e sono possibili scontri con familiari e colleghi. Buona giornata, al prossimo appuntamento con l'oroscopo.